Bentornati con noi, allora, mi hanno fatto una promessa, saranno velocissimi, ma c'è una domanda che Ezio vuole fare. Ezio vuole fare a Paolo, giusto? Sì, voglio fare a Paolo perché ha citato Andrea Agnelli e hai detto, se non sbaglio, testualmente, ne ha fatte di tutti i colori. Il responsabile unico di questi tre anni angoscianti della Juve su tutti i colori. Domanda, quelli attorno a lui, il suo vice, l'amministratore, il direttore, queste cose non gliele dicono? Non le vedono? Ti rispondo, posso? Sarò veloce, quelli attorno a lui che vedevano certe cose, come Marotta, che non era d'accordo sull'arrivo di Cristiano Ronaldo, sono stati allontanati perché Andrea Agnelli, dopo essere stato così vincente in Italia e aver fatto crescere il fatturato della Juve, evidentemente gli si è ipertrofizzato l'ego, si è sentito onnipotente e ha deciso soltanto lui, togliendo Marotta. E poi per altre ragioni paratici, anche secondo me un po' vendendo, fra virgolette, su certi episodi, su certi temi, il passaporto con Paratici, la storia della curva dei tifosi con Marotta, scaricando i suoi dirigenti. E quelli intorno a lui sono degli yes men, cioè cosa conta Cherubini, cosa conta sulle strategie di squadra Arrivabene, che è arrivato da poco e ha messo la proprietà per guardare i conti. Secondo me lui si è circondato di gente incompetente, cioè non ha detto di lavorare. Che gli dicono tu sei bravo e sei bello. Esattamente così, questa è la mia risposta, ma non è, in un'azienda normale, se fosse soltanto un dipendente e non avesse l'11% di Exor o qualcosa del genere, con 5 anni anche di bilancio in passivo, in passivo sarebbe stato cacciato laboriosamente, o sarebbe da cacciare. Però la Juve è la cosa, non è così semplice. Era buona la risposta, no? Cioè comunque almeno i tempi erano buoni. Beh, sei stato abbastanza in interno. Mi faccio complimenti da solo, per ridurre. Mi sembra un po' esagerato. Cosa Antonio? No, dico solo incompetente, mi sembra un po' esagerato. Quello intorno a lui. Non condivido la traccia del ragionamento. Grazie. Comunque continuiamo a parlare anche dopo di Juve. Che Rubini faceva il direttore sportivo in C2, dai. Andiamo invece a parlare di Inter, soprattutto di Lukaku. Dalla panela alla braccia. Esatto. Era tanto atteso il suo ritorno e si pensava che tornasse sabato per la partita contro la Roma. E invece, ahimè, è rimasto ancora fuori. Vero Paolo? Vediamo un po' la grafica delle formazioni per Inter-Roma e soprattutto il calendario dell'Inter. Sì, Lukaku che manca dal 26 agosto, Lazio-Intra, la sua ultima partita, ha saltato sei partite, quindi con i nerazzurri. Era dato per ritornante post-sosta nazionali, nonostante Zeco e Correa, no, Zeco stia facendo benino, Correa assolutamente no. Nonostante però il Bosniaco non stia facendo male, era agognato il ritorno di Lukaku. Invece con la Roma sicuramente non ci sarà. Qualcuno prospetta una piccolissima percentuale affinché vada in panchina, ma noi tendiamo ad escluderla. Proverà l'Inter a recuperarlo per martedì, sfida con il Barcellona. Inter che va molto cauta sul Belga, che oggi ha svolto lavoro differenziato, chiaramente ha una massa muscolare importante. Si temono ricadute, quindi si va con i piedi di piombo. Inter che affronterà nel calendario prossimo la Roma di Murigno nel weekend, poi il Barça martedì e poi la trasferta di Reggio Emilia a cavallo con il ritorno al Camp Nou contro il Barcellona di Ciavi. Inter-Sanitana, Fiorentina-Inter. Questo è il calendario dell'Inter che con la Roma dovrebbe schierarsi così per un Lukaku che non torna. C'è un Cialanoglu che dovrebbe ripendersi sul posto da mezzo alla sinistra in mezzo al campo con Barella e non con il solito Brozovic. Ci fermo per l'infortunio, quindi chance per Aslani dal primo minuto. A sinistra balottaggio Gosens di Marco, Gekola-Utaro di fatto sarà la coppia d'attacco. Andanovic, Schiener, De Vrij e Bastoni e Dunfris invece hanno il posto assicurato. Non è così, spero sia questa formazione. C'è anche la voce del Cerbic. Da quello che è arrivato e arriva, Inzaghi avrebbe questo piccolo dubbio Aslani? Perché secondo Inzaghi è una partita molto molto difficile e potrebbe creare problemi a un giovane buttato dentro così a San Siro di pelo. Posso dire che Aslani è giovane solo per la nostra cultura calcistica medievale? Certo, rispetto a noi è giovane, ma per fare calcio in tutti i paesi d'Europa in Champions giocano anche in 2004. Soprattutto ti dirò una cosa. No, perché noi dovremmo dire basta a una roba del genere, poi ci chiediamo perché il calcio italiano è involuto, perché non abbiamo i campioni. Cioè noi continuiamo a importare giocatori over 30 e a considerare giovani quelli che negli altri paesi giocano da 2-3 anni. Io faccio una dichiarazione preventiva, scusate non ti ho rotto, guardi bene. Anche se dovesse vincere con la Roma, se non gioca Aslani, che sta bene a quanto pare perché non abbiamo notizie contrarie, cioè Simon Inzaghi è veramente da riga, da croce perché se tu non hai coraggio e ti presenti con Gagliardini... Ecco, quello è il secondo problema. Allora, attenzione, io credo che l'anno scorso l'Inter può avere, perché non sono sicuro, però da quello che abbiamo visto, può avere perso il campionato per una rigidità di Inzaghi... Fatene una ragione. No, no, aspetta, no, no, sto arrivando, no, non prendermi in giro. No, sto cercando di... Quel punto non lo digerisse. Allora, l'anno scorso il famoso periodo buio arrivò con l'assenza di Brozovic e si disse, del resto non ha un vice Brozovic in rosa e molti gli dissero, non c'è solo il 3-5-2, si può fare un altro modulo. Quindi quest'anno la società, con il suo avvallo, chiaramente gli ha preso il vice Brozovic, io sono d'accordo con Paolo. Cioè, Aslani prima o poi dovrà farci vedere di che pasta è fatto. E' arrivato in pompa magna, io, è vero che sono amichevoli, è vero che contano poco, però per quello che ha giocato anche nell'amichevole estive, ripeto, sono amichevoli, però a me sembra che abbia gamba, che abbia bisogno di gioco e ha voglia di fare. Il problema qual è? Se tu non schieri Aslani, devi schierare Gagliardini, che oggi, a me spiace dirlo, ma purtroppo il momento dell'Inter è questo, oggi mettere Gagliardini a San Siro è un problema. Perché? Perché appena tocca a palla, sbagliando, viene fischiato, eccetera. L'alternativa qui, cosa si può fare? Si potrebbe cambiare modulo, lo ridico. Ma non lo fa, ma non lo fa. Perché tu hai la possibilità di un Di Marco che arriva da una nazionale carico. Che ha fatto benissimo. Tu non è necessario fare il 4-1-2, tu puoi fare tranquillamente un 3-4-1-2, non mi sembra di dire… No, ma al di là di tutte le analisi e di appigli che vogliamo dare inconsciamente all'allenatore, che poi è il suo mestiere, però io mi chiedo, le società all'Inter come altre sono in sofferenza, cominciano a investire sui giovani. Aslani l'hai pagato 4 milioni di prestito oneroso e 10 più bonus di obbligo di riscatto. Ma cosa l'hai preso a fare? Cioè, tu società forte, al tuo allenatore, cioè devi… lo diceva anche Mogi, cioè quando tu hai una società forte, l'allenatore lo controlli e lo gestisci, lo bilotti… Cioè, io spero che giochi Aslani, non dovesse giocare Aslani e mi dice, è giovane perché… Ma giovane! No, aspetta, aspetta, il problema è, l'errore è a monte, perché tu hai avuto modo di metterlo in campo in altre situazioni, in un Inter cremonese 3-0, a mezz'ora dalla fine Aslani lo metti. Cioè, ci sono tante delle occasioni in cui, col Vittoria Pilsen, Aslani lo provi e gli fai fare esperienze internazionali. Credo che io spero giochi, rispetto a giochi Aslani, se gioca a Gagliardini è un problema, ma ripeto, io sono uno che il giocatore dell'Inter non lo fischia mai. Purtroppo San Siro, e lo conoscono tutti, Massimo, da detto di lavoro… San Siro è uno stadio particolare. Se prendono di mira un giocatore, c'era Calabria che non poteva giocare nel Milan. Nel momento in cui è l'Inter è un problema. Io credo che, oggi lo dicevo, appena arrivato… Questo è un big match come quello di sabato. Sì, però io credo che il problema sia, e l'ho detto a Paolo appena arrivato, io sono un po' preoccupato per Lukaku, perché Lukaku è stato preso per fare la differenza e Lukaku ha fatto tre presenze e due gol. Perché sono preoccupato? Perché quest'anno è un anno anomalo. E' un anno anomalo nel senso che, è vero, c'è tempo per aspettarlo. No, perché quando noi ci saluteremo il 13 novembre, c'è più di metà stagione già giocata e tutta la Champions già fatta. Quindi sono un po' preoccupato per Lukaku. E poi abbiamo visto come Correa non sia all'altezza. Quindi il vero problema oggi è l'Inter senza Lukaku, senza Brozovic, attenzione. Quindi in Zaghi si gioca veramente molta credibilità. Ripeto, io non sono uno che fischia a prescindere. Però vedi, però vedi, fai un po' un discorso molto tradizionale, molto convenzionale, perché tu fai derivare le fortune di una squadra sempre da un giocatore che manca. Un po' come Allegri quando si giustifica. E non sei rassicurato da un gioco solido. Non sei rassicurato da un gioco solido che sopperisce alla mancanza di interpreti. Pioli e Spalletti, torniamo al vecchio ragionamento. Prima della spettacolare Milan-Napoli che per fortuna ci ha fatto rivedere un calcio europeo e dopo nessuno ha parlato degli stessi. Nel momento in cui, guardi l'anno scorso, l'Inter giocava bene senza Lukaku. E allora no, perché tu hai fatto... No, il discorso è comunque... Dico, chi se ne frega, cioè nel senso... Però capisci che... Giocassero meglio, corressero. No, è quello il problema. In Zaghi non avesse paura come allenatore. Quello è l'altro problema. E poi se si cambia e fa ridere, no? No, certamente. E certamente... A Udine ha cambiato quattro volte i trader a difesa in 90 minuti e persa per esempio il regolo. Quello che ti può dare una mano... Però ha dimostrato di essere importante Lukaku per l'Inter quest'anno. Però io dico, quello che ti può dare una mano, è una mano che ti può dare Lukaku, come la mano la può dare Leao al Milan, come... Esatto, è comunque fondamentale in questo momento. Adesso non è che mi attacco alla senza di Lukaku, perché l'Inter fa pietà. Cioè, a Udine, l'abbiamo detto settimana scorsa, tu non puoi avere due giocatori a me dopo 20 minuti, perché non riescono a stare dietro all'uomo e gli corre via. Che poi li abbia cambiati, va bene, il suo... Cioè, qui c'è anche un problema atletico. Però, ripeto, Lukaku che è sempre... Che nel periodo di Conte, adesso scopro una pentola in cui Massimo... Un anno noi abbiamo visto Lukaku fare la differenza con Conte. No, sto venendo a livello di infortuni. Perché poi in Premier non l'ha mai strisciata. No, sto parlando però a livello di infortuni. Cioè, è un infortunio... Non l'ha mai strisciata. Adesso noi, nel nostro calcettino di provincia... Però quello che preoccupa me oggi è che tu hai tre giocatori importanti, che sono Brozovic, Cialanoglu e Lukaku, che hanno avuto lo stesso infortunio muscolare. E quindi qualche problema... Però te l'ha detto, eh. Lukaku era un certo giocatore con il gioco di Conte. Che stavamo dicendo. E perché erano ricordati qua? C'erano i tifosi del Milan. Mi ricordo due anni fa, e Massimo è testimone, che dicevano, ma come... Che sfiga, dicevano tutti, l'Inter non ha un'infortunio. Vi ricorderete quando il Milan mancavano otto? Vabbè, ma i metodi, la preparazione a te, di come lavori, sono davanti. E ora torniamo al discorso che era Conte, che fosse una differenza. Non so se era Conte, io non è che adesso... Non voglio fare... Non voglio fare... Preparatori di Conte. Cioè, Conte è il passato, so cosa ha dato, eccetera. Bisogna... Cioè, un allenatore che allena l'Inter, uno staff tecnico che allena l'Inter deve... Il mio problema non è la preparazione fisica, che può essere... E che tre giocatori si fanno male nello stesso modo. Nello stesso modo. Che sono infortuni molto complicati, perché Brozovic molto probabilmente, lo rivedremo nel 2023, Lukaku e Lili, c'è la Noglu, lo rientra, però sono tutti infortuni... Però... Sono tutti infortuni... Le infortuni ce li hanno tutti. Ci fermiamo, ci fermiamo perché abbiamo la pubblicità. Le infortuni sono infortuni che diventano gravi nel momento in cui è il mondiale. Può forzare, questo io non lo so. Serve un po' di dieta. Ragione Massimo, è nella stessa situazione in cui... Quando arrivò all'Inter il primo anno... Io per esempio... Io per esempio trovo due giocatori appesantiti, McKennie e Quadrado nella Juve. Quadrado non riesce più ad avere quello sprint, è vero che è arrivato anche magari a un'età, però non è l'età. Perché io ricordo per esempio Candreva quando arrivò all'Inter, Candreva si asciugò almeno di 7-8 kg e anche lui riconobbe questa cosa, che non era più il Candreva degli anni prima. Quindi non lo so, mi sembra comunque che sia l'Inter che la Juventus non siano squadre che dal punto di vista atletico stiano facendo delle partite devastanti, anzi tutt'altro. Ha ragione Massimo, ha ragione Massimo, condivido tutto, condivido tutto. È troppo importante. L'Udinese con l'Inter ha corso doppio, la Juventus può dire quello che vuole, sì, il gol fuori gioco qua, ma la Salernitana ha trittato la Juve dal punto di vista fisico-atletico. Lasciamo stare l'aspetto squisitamente tecnico, però quando una squadra corre e l'altra fa fatica ad arrivare prima sulla palla, ti accorgi subito. Se poi è una cosa costante questa in tutte le partite, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ha ragione Massimo, perché a parte che è un'analisi lucidissima e poi Antonio Conte sappiamo quanto incide non solo nella testa dei giocatori creando la mentalità vincente, ma quanto sia forte nel lavoro atletico. E nel calcio di oggi, che ogni stagione va verso la forza, la fisicità, è fondamentale la preparazione atletica. Assolutamente. L'ha detto anche il DS del Milan Massara qualche giorno fa, dice che nel calcio di oggi il giocatore tecnico, senza forza nelle gambe e velocità, è un giocatore che non può esprimersi, perché non ha il tempo di farlo. Spiegava la filosofia dello scouting del Milan, giocatori tecnici, ma anche giocatori di gamba e di rapidità. Se tu le squadre le alleni poco e male, poi ti trovi o gli infortunati, o come la Juve che dura 20 minuti. Purtroppo gli infortunici hanno anche squadre bene allenate, come Milano e Napoli. Secondo me la questione attuale è anche che in maniera disumana si gioca troppo. Nazionali, con partite inutili, troppe competizioni ogni tre giorni, flessori e adduttori in tutte le squadre. Vero, vero. La Juve l'anno scorso aveva gli adduttori, aveva i flessori, quest'anno hanno gli adduttori. Questo deve far capire, al di là del ritmo degli allenamenti, che sono diversi, c'è proprio una questione di infortuni esagerati per tutte le squadre. E poi nessuno mi toglie dalla terra. Le squadre non si sono allenate, e continuano a non allenarsi. È molto chiaro, cioè è Allegri, che sarà il peggior allenatore della storia del calcio italiano, e ce lo ritroveremo così, non è andato a toccare su queste corde, gli hanno dato troppo credito l'anno scorso per un quarto posto, mentre altri avevano vinto almeno un trofeo. E quest'anno ha ripreso con i mondiali all'orizzonte, con una strategia simile a tutte le altre squadre. Peccato che le critiche erano pesantissime nei confronti della Juventus e dell'allenatore ad inizio stagione, anche nei nostri studi, in quegli studi che frequento settimanalmente, a distanza o meno, perché si parlava di prevenzione, cioè si cercava di attaccare in tutti i modi. Qui è da mettere sotto processo la preparazione atletica e la disponibilità che alcuni giocatori danno o non danno alle nazionali, che alcune società fanno che fanno e altre non fanno. E poi dipende un po' anche dalla fortuna del preparatore che ti trovi. In questo momento mi sembra, e chiudo, che ci siano squadre che non voglio difendere e attaccare, uguali, perché poi la differenza di punti voglio vedere se a novembre diremo le stesse cose, visto quello che si diceva anche nei nostri studi, dopo tre giornate, Emma, la Juve, e con Pogba, e quello, e il contatto. Io vedo gli argentini che poi vanno a giocare, o vorrebbero giocare, o giocano 68 punti, e forse si stressano anche meno. Forse giocare liberamente, con meno pressioni, forse aiuta anche a non infortunarsi. Ma si stanno allenando. 80% delle squadre, malissimo. Anzi, non si stanno allenando. E forse ha ragione, Paolino. Vado un secondo da Paolo. Sì, volevo, per fomentare il dialogo in studio, stiamo parlando, no, di questa preparazione poetica dell'Inter, un po' vacante, soprattutto riferimento a quella importante che metteva in atto Conte. Posso raccontarti, e non vi racconterò di certo l'informatore, e anche l'informazione, diciamo, la terremo un po' velata rispetto ai contenuti che sono abbastanza forti, e che sin dall'anno scorso, fine campionato, dei giocatori dell'Inter, però di giocatori importanti, di mamma santissima dello spogliatoio, avevano rivelato, senza peli sulla lingua, che in Zaghi, a parer loro, fosse uno degli allenatori più scarsi mai avuti, mai avuti appunto, a guidarli. Quindi è evidente che anche questa stagione non è partita sotto i migliori auspici per l'Inter, perché evidentemente per certi giocatori non c'è fiducia nei confronti del proprio allenatore, e questo va da sé, non può essere di buona spiccia nei confronti di una stagione. Certo, quando hai uno spogliatoio che dice queste cose è difficile. Parlo di due giocatori, poi se tutto il gruppo si unisse al pensiero di questi due giocatori non lo so, però due giocatori importanti dell'Inter hanno rivelato di non avere grande fiducia nei confronti di Zaghi. sulla questione allenatore a tutto il gruppo. Però, scusa Riccardo, dico solo una cosa ad Antonio Paolino. Antonio, tu hai parlato di Allegri e della mancata preparazione alla stagione della Juventus, ma è la società che ha deciso di andare a fare la tournée in America. Bastava stare alla Continas e andare di nuovo a Pinzolo. Allora facevamo una preparazione. Se accetti l'azienda lista accetta anche quella situazione lì. Io non sarei andato in America quest'estate e sarei andato a dicembre dal Giappone alla Spagna agli Stati Uniti e avrei lavorato prima. Ma così mi ricordo che mi allenavo io all'epoca a Montagna o Torino anche solo per evitare le lunghe trasferte negli Stati Uniti. Però è anche vero Lo comanda le televisioni... Sì, sì, sì. A livello europeo scusami, a livello europeo ormai tutti fanno le tournée. Sì, no, ma... Cioè, quindi anche questa cosa qui diciamo... Però la preparazione vera... E ritorniamo, Ritorniamo per favore sullo spogliatoio del leader perché se no voi mi cambiate completamente il discorso. Io devo guardare le nuve che non corre. No, io volevo rispondere a Paolo che sicuramente le fonti sono giuste, corrette non metto in dubbio. Mi fa specie... Ti assicuro che questa è una verità, eh? No, no, no. Giusto per mettere i punti sull'I. Mi fa specie che io... Non la leggiamo sui giornali però. No, no, però a me fa specie che non è una critica è un appunto. Certo, certo. Un dirigente scaffato come Marotta di fronte a questi mugugni perché se sono arrivati se escono questi mugugni dubito che Marotta non è forse a conoscenza. Tu dici come arrivano a noi arrivano a Marotta. Ecco, no. Comunque Marotta magari è una semina diversa però decide l'Inter di rinnovare il contratto di Inzaghi, eh? Cioè, hanno arrivato il contratto di Inzaghi e quindi a maggior ragione potrebbe essere ancora più grave di come la DPG2. Potrebbe essere un errore. Però, ripeto, un amato delegato dovrebbe sentire le voci dello spogliatoio secondo te? No, sai, sono voci importanti e non ti parlo di Darmiani Gagliardini. No, no, no. Con tutto l'aspetto per Darmiani Gagliardini. Se tu parli di Deusa e Smacchina dello spogliatoio i nomi sono 4-5. Sì. Se i giocatori parlano col direttore generale parlano con l'amministratore delegato Beh, basta sentire cosa aveva dichiarato Cialanoglu. Eh, quello esatto. Dopodiché tornando al discorso al discorso che dicevamo prima degli infortuni nessuno mi toglie dalla testa che questo mondiale messo a un mese di distanza fa sì che il giocatore che una volta sentiva magari un piccolo pizzichino e giocava adesso per paura di perdere il mondiale rispondono rispondono alle convocazioni internazionali seppur affaticati vedi vedi magari Brozovic piuttosto che Magnan Vabbè ma Riccardo lì c'è una disciplina c'è una normativa le convocazioni che sono sotto legge da FIFA delle competizioni internazionali al massimo vai e ti visita il medico però vedi anche di Maria anche di Maria Pocba stesso ha fatto di tutto sbagliando per dire non voglio perdere il mondiale ha affaticato anche un portiere no in generale sto dicendo sto dicendo che il mondiale si è fatto male il mondiale determina si stanno tenendo per il mondiale il mondiale determina perché magari Brozovic o chiunque altro se ha un piccolo fastidio una volta diceva al mister tienimi fuori e adesso con la Croazia con l'Argentina vedi Di Maria Di Bala stesso che va là e si allena per non perdere il mondiale tra poco parleremo anche di Di Bala quindi questa cosa qua sarà devastante perché dopo voglio vedere al rientro e ma vale per tutti no no certo stiamo parlando però Paolo è come dire che non ci sono più le mezze stagioni nel senso che l'argomento è il calcio è quello riempire di manifestazioni per raccattare soldi fare tornei estive per raccattare soldi la FIFA che mette la Nations League cioè oramai oramai l'argomento era scusatemi fatemi sentire Massimo Massimo no ma l'argomento era Paolo scusatemi l'argomento erano i tanti infortuni mi fate sentire Massimo per favore allora a parte dal punto di vista della preparazione io non so chi l'ha detto se Paolino non so chi l'ha detto anche Inzaghi o Allegri possono decidere di cambiare il preparatore atletico sei tu che scegli lo staff non è che c'è qualcuno che te lo impone Antonio Conte si è scelto Pintus all'Inter che ha fatto delle cose devastanti perché poi non c'erano più infortunati e guarda caso alla fine del percorso lui praticamente è rimasto a casa Antonio e Pintus è andato a Real Madrid e l'ha voluto Ancelotti quindi diciamo due pirla Conte e Ancelotti sono due pirla che si sono scelti forse il top il numero uno che c'è in circolazione che è questo Pintus però volevo ricalcare un attimo perché sono stupito del fatto che Paolo Marcello è venuto a sapere di una cosa di cui io so i dettagli perché questa cosa è una cosa che non verrà mai scritta sui giornali ma è una cosa che anche a me è stata riferita da una persona che faceva parte di un'altra squadra alla fine di una partita del campionato scorso io non so come ha fatto a venire a conoscenza di questa cosa Paolo Marcello questi due giocatori dell'Inter si sono diretti nello spogliatoio avversario a fine partita ma non a fine partita subito dopo dopo un pochino dopo un po' di tempo per salutare dei calciatori all'interno di questo spogliatoio c'erano più persone che hanno sentito in modo specificato una persona che poi diciamo così è quella che poi ha manifestato questa situazione ha sentito questi due calciatori che manifestavano un grandissimo disappunto per il lavoro di Inzaghi e manifestavano un grandissimo disappunto per il valore di Inzaghi come allenatore tanto che io mi sono domandato nel momento in cui ho saputo questa cosa e ribadisco faccio i complimenti a Paolo Marcello che è venuto a sapere questa cosa che è una cosa che si sa solamente tra addetti e lavori questo ve lo garantisco e questi due giocatori hanno espresso questa grandissima critica tanto che quando io ho sentito del rinnovo di Inzaghi ho pensato probabilmente no ho pensato probabilmente che Marotta volesse per altre cose scusatemi ma non è che Marotta fa solo cose giuste perché Marotta ha rifatto il contratto a un allenatore che non credo che in giro si potessero strappare i capelli per portare via Inzaghi quindi credo che la sua intenzione sia stata quella rinnovo il contratto perché se io mi tengo un allenatore a contratto in scadenza i giocatori poi sappiamo che quando c'è un allenatore in scadenza si comporta in modo differente mi sorprende questa cosa sarebbe un grave errore da parte di Marotta perché mi sorprende era un allenatore in scadenza quindi non c'è stato nessun obbligo l'ingaggio di Inzaghi abbastanza hanno raddoppiato l'ingaggio quindi mi sorprende cioè sarebbe un errore grave io ti assicuro di quella cosa che mi hanno detto perché è un addetto ai lavori e ti dico solo che fa il direttore generale sì però Massimo tu sei dell'ambiente secondo te se due giocatori incominciano a manifestare una roba del genere c'è questo mullumore l'amministratore delegato di una società non viene a saperlo e questo è la domanda continuiamo a parlarne subito dopo la pubblicità state bentornati con noi in studio allora stavamo parlando di cose importanti caro Massimo qui in pubblicità tutti volevano sapere i nomi di questi due giocatori nello spogliatoio che hanno parlato così ce lo vuoi raccontare meglio ci vuoi dire qualcosa di più ci vuoi dire un nome per caso no vabbè ma io posso anche dire i nomi dei due giocatori non c'è problema ah unica cosa no ma unica cosa che metterei in difficoltà la persona che era presente in questo spogliatoio e che mi ha raccontato questa cosa io sono rimasto allibito però poi ho fatto uno più uno su quello che altri giocatori che ho incontrato in ascensore mi avevano più o meno detto e quindi ho capito che c'è qualcosa che non funziona anche tra il lavoro di Inzaghi e la stima che hanno del lavoro di Inzaghi questi giocatori il gruppo tutti i giocatori sicuramente non sono neanche un pirla perché quando mi racconta una cosa un direttore generale non me la racconta così a Vanvera Massimo ma sono due giocatori di peso due giocatori sono giocatori importantissimi certo uno volevo solo dire una cosa uno è ancora all'Inter ed è un titolare e l'altro non è più all'Inter no ce n'è un altro ancora aspetta vediamo se intanto ti dà ragione allora quelli dell'ascensore esatto uno dei due è lo stesso sì lo stesso e l'altro non è più all'Inter quelli dello sfogliatoio sono tre tutte e due all'Inter sono tutte e due titolarissime allora c'è un terzo il terzo che è in ascensore non c'è più il terzo in ascensore non c'è più il problema è che noi commentiamo non c'è più quelli in ascensore il problema è che noi commentiamo dei pur parler però scusa però scusa però scusa no non è un pur parler a vi passiamo no no scusa io scusa ho assistito qualche anno scusami però fammi finire Riccardo qualche anno di calcio sulle spalle anche vissuto ce l'ho ho sentito trattative sono stato presente a trattative sono stato presente negli sfogliatoi io so che è usanza a volte finita una partita di avere un calciatore della squadra diciamo così eh ehm avversaria che ti viene a salutare che viene a salutare si ferma o anche un allenatore che viene a salutare si ferma nel tuo sfogliatoio quando quasi hai già finito di fare la doccia quasi c'è già l'adrenalina che sta passando eh e onestamente quando c'è presente in questo spogliatoio un direttore generale della squadra avversaria che è presente che è presente nel proprio sfogliatoio e sente due giocatori di questo calibro dire queste cose ragazzi si fa anche lui dentro di sé si fa uno più uno uguale a due infatti io ho sbagliato il termine Massimo volevo dire e questo direttore generale scusa che non c'entra niente con l'Inter non c'entra assolutamente niente che cazzo mi viene a dire però Massimo scusa io non volevo intendere io non volevo passare il concetto che non hai verificato eccetera io stavo dicendo stiamo commentando dei fatti che ci sono stasera ci sono stati riportati quindi un pur parler no ma un pur parler nel senso che sono fatti che ci vengono riportati però il fatto madre di questa cosa sono le dichiarazioni di un giocatore che vanno sulla stampa ad approvare questa cosa perché ti ricorderai benissimo Cialanoglu disse noi abbiamo perso il derby per colpa di Zagli quindi è un rafforzativo appunto è la prova provata noi non stiamo parlando solo di e quindi sono già in tre ecco noi non stiamo parlando di quindi pensa agli altri no ma poi Riccardo di sentire dicendo cioè buono complimenti a Massimo perché chi porta notizie ed è documentato nel nostro mestiere è grande Paolo anche che ha avuto subito non era per dire che non è che sono no 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 era per dire la con notizie nel nostro mestiere al giorno d'oggi veramente chapeau perché arrivano sempre meno notizie ma voglio dire ma non è neanche un peccato di lese maestà dire che dentro all'Inter tra i giocatori c'è perplessità su Inzaghi sui suoi metodi di lavoro sulla sua cioè è normale è una presa d'atto non è clamoroso certo non c'è solo Allegri e la Juve appunto appunto è una personalità diversa è una personalità diversa perché quando c'era Conte parlava forse uno adesso parlano in dieci quando c'era Mourinho parlavano in nove e adesso parlano in dieci cioè secondo me a livello di personalità Inzaghi Allegri ha qualcosa di più di Inzaghi metto su questo profilo a livello di personalità Allegri ha giocatori contro questo è davvero e Massimo lo sa quando c'era Conte non usciva neanche cioè non si era appunto se hai un allenatore più fragile è un'altra storia se hai un allenatore più fragile quando quando c'era anche Aureali c'è con Oma tra l'altro merito anche Aureali perché Aureali era una 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 persona secondo me che era capace di di fare il suo e poi aveva tra virgolette una grandissima amicizia e una grandissima stima professionale reciproca con Antonio avevano formato un gruppo io dico che se fosse rimasto Antonio Conte io credo che l'Inter avrebbe vinto anche l'anno scorso anche qui c'è un esempio però sai non c'è una controprova anche qui c'è un esempio con Aureali quando esce Lautaro l'anno scorso che lancia la bottiglietta va Aureali da Lautaro faccia a faccia quest'anno Bastoni ha fatto una mezza scenata non si è alzato nessuno per andare da Bastoni però detto questo punto a capo la stagione dell'Inter non è finita ma certo adesso non è che c'è il processo cioè io voglio a giugno tireremo le cose io sono convinto che ci siano però c'è un ambientino il risultato fa molto però io sono convinto questa saggezza mi piace dovrebbe essere applicata con tutte le squadre io sono convinto ma non lo dico io me lo dicono i più esperti mi stupisco troppo però Antonio non lo dico io però una preoccupazione ci deve essere perché c'è la stessa struttura organizzativa e tre quarti d'ora che ne parliamo certo che c'è se sai anche che però c'è una società che sta un po' traballando più di tante altre è facile bersagliare A, B, C lì c'è un altro aspetto hai ragione hai ragione ma non hai più il Marotta che ti difenda a spada tratta l'allenatore te lo rinnova ma i problemi escono prima però ecco perché è andato via anche Antonio Conte perché aveva intuito tutto giusto dobbiamo anche spiegarle poi in termini semplici al giornalismo mi hanno spiegato puoi l'informazione o la devi spiegare in modo semplice se no dietrologia non è che può difendere cioè non è che adesso Marotta è mago Marotta e riesce a tenere nascoste tutte le magagne è una società di calcio ha dei problemi certo quest'anno più di altre volte Conte riusciva a fare la parafondine migliore anche quando era la Juve ha quelle specificità lì quell'allenatore con una società forte ma i risultati arrivano e perdi forse i derbi e perdi forse con Allegri e con altri allenatori quando dal manico la forza non si vede e comincia a fare hai ragione su tutto sei inattaccabile però ripeto non lo dico non lo dico solo io secondo me l'Inter ha una rosa che può sicuramente ancora dire la sua interna del campionato ma certo anche la Juve quando ce l'ha e poi non dimentichiamoci e poi non dimentichiamoci il grande argomento che non è stato mai diciamo per quanto tempo ci sarà l'alibi per tutti sugli infatti lo so che cosa vuoi dire il grande argomento che c'è in casa oggi è molto più grosso ma ne parliamo subito dopo la pubblicità va bene state lì bentornati con noi in studio e quindi si parlava di Inter ma a questo punto parliamo di quello che sta succedendo in questi giorni alla dirigenza dell'Inter che vuole blindare Skriniar anche perché c'è stato un aumento importante di capitale vero Paolo? Sì sì assolutamente assolutamente sì aumento di capitale e pare adesso girerò la parola al mio omonimo che sicuramente ne sa più di me pare che Zanga abbia messo il veto sulla cessione di Skriniar a gennaio e che voglia fare di tutto per offrire un nuovo al ragazzo che a quanto pare però sembra davvero abbagliato dalle sirene di Parigi e quindi Paolo raccontaci tutto di questa situazione perché comunque l'aumento di capitale è stato fatto proprio per bloccare Skriniar in questo momento quindi tenersero fino a fine stagione sarà fatto perché si parla di 100 milioni che però sono consistenti ma in assoluto non dico che siano noccioline è un giroconto è un giroconto è un giroconto è un giroconto praticamente che deriva da un prestito da un prestito con interesse molto alto che praticamente mettono lì e quindi alla fine non cambi la situazione societaria o debitoria nei confronti di chi ti ha prestato i soldi però questa cosa anche in quello che arriva viene letto e viene dichiarato come la volontà di tenere Skriniar a gennaio e io ci credo ed è molto possibile però secondo me quello di Zhang è molto un all in che rischia di essere un flop perché già non vendolo quest'estate conoscendo la situazione così anche finanziaria secondo me è stata una forzatura a gennaio non lo fai partire dove magari comunque avresti preso se non 50 magari 25 30 riprendevi te lo tieni ma i segnali che Skriniar voglia rinnovare non ci sono per il momento e quindi alla fine i conti poi capiremo molto dopo il mondiale anche perché lui vorrebbe 9 milioni a stagione sono cambiate le condizioni scusa se ti no no Riccardo nel senso che prima c'era la volontà di rinnovare anche perché il precedente rinnovo addirittura lui l'aveva fatto senza procuratore smentisci mi se sbaglio portandolo davanti i tifosi dicendo lui è il capitano perché ha lasciato perdere il suo procuratore e ha rinnovato è chiaro che sono cambiate le carte nel momento in cui è arrivata l'offerta da Parigi esattamente ma Riccardo ma succede con tutti con tutti purtroppo c'è un fatto che lui non farà i mondiali quindi sarà molto interessante seguire sì ma se arriva il Paris-Germain e ti offre 9 milioni per giocare con tutti commessi nei mari così e vedi che dall'altro lato c'è una società comunque in questo momento debole come l'Inter ma Skinner giustamente è molto anche se il contratto 2025 in questo caso in questo caso in modo ulteriore il problema è la scadenza ma rientra nelle dinamiche di mercato in assoluto e nelle dinamiche di mercato che partono dal nostro campionato che è troppo poco appetibile rispetto a certi campionati nel caso della Premier o rispetto a certi club come il Paris Saint-Germain è ovvio cioè sarebbe una sorpresa clamorosa se Skriniar decidesse di legarsi ancora all'Inter non perché abbia qualcosa contro l'Inter però non c'è è un po' come la situazione di Coulibaly no? di Coulibaly che a un certo punto non è affatto una questione di soldi anche se poi ha guadagnato sicuramente di più ma dice io voglio confrontarmi con un campionato diverso con una realtà diversa e perché non lo deve fare Skriniar? Per quale ragione Skriniar in scadenza deve restare all'Inter? E poi come ci si arriva 9 milioni visto che Zanga ha dato l'ok c'è un po' di differenza ma a quei livelli è la voglia di cambiare per fare un'esperienza a livelli più alti provare magari a vincere uno o due Champions e quindi per acquisire valore a prescindere e poi con lo stipendio arrivano i bonus se tu vinci che sono più alti quindi secondo me è una situazione abbastanza io non capisco perché Zanga continua soprattutto perché ti rendi conto della situazione dell'Inter e anche l'Inter fa comodo cedere questo giocatore che sta andando in scadenza e che rischi di perdere poi a zero nella situazione surreale che si vive in questi casi fa comodo al giocatore aver forse accettato di rimanere fino a novembre sapere di non andare in nazionale è talmente lineare il ragionamento del giocatore non il mio e poi accontentare eventualmente le situazioni che si vengono a proporre a me non stupiva il Paris Saint Germain che avesse rialzato la posta agli ultimi giorni quasi sicuro di non poterlo fare ma come per dire ti opziono cioè con questo momento di capitale l'Inter non può permettersi di rinnovare a certe condizioni il giocatore il più interessante della Rosa tra i più interessanti e soprattutto tenerselo rischiando di perderlo a zero ma penso che gennaio sia importante Antonio ma questa situazione non riguarda solo l'Inter perché sennò sembra che stiamo un po' demolendo l'Inter guarda riguarda come diceva Riccardo anche giocatori sotto contratto guarda l'esempio di De Ligt nel momento in cui De Ligt ha deciso che non avrebbe rinnovato e aveva l'ipotesi Bayer Monaco tu non puoi essere competitivo con quei club e quei campionati Leao effettivamente d'accordo Leao signerà così dopo parliamo anche di Leao Paolo non anticipiamo tutti curiosi c'è solo una variabile qua che potrebbe sconquassare il piano una curiosità potrebbe sconquassare tutto un cambio di proprietà una curiosità ci sono i tempi perché a gennaio Scrinner può legarsi con un nuovo club sono per le domande però poi 7% non lo so no no parlavano 12 12 12 addirittura 12 è fuori da ogni cioè siamo a livello di strozzinaggio usura usura se ti affidi ad un prestito del genere vuol dire che sei veramente la canna del chiasso no però attenzione con le parole non è così no vabbè adesso scherzo no perché lui ha detto strozzinaggio 12 è una violazione perché a me hanno fatto un ammazzo così in altre sedi quando ho tirato fuori questa parola cioè è una cosa lecita che si può fare no ma è ovvio è un impegno no aspetta è un impegno che tu dai cioè l'Inter non è che va cioè non è che arriva allo strozzino ma è chiaro l'Inter si impegna no ho forzato sì però era una forzatura la sua però io ho detto un prestito a tassi alti non era intanto nel merito domani mattina l'Inter fa la fa la fine tra virgolette scusa non voglio fa la fine del Milan cioè arriva arriva a Oc3 e diventa proprietario se non riesce se non riesce a non riesce tu accetti certe condizioni non le accetti le firmi non è che non è che t'hanno messo la pistola alla tempia sentiamo anche Massimo hai fatto una convenienza non avevi Massimo o vendete 500 milioni no allora su per quanto riguarda fatemi sentire un attimo Massimo per favore per quanto riguarda Skriniar io e Paolo Bargigi abbiamo vissuto io da una parte da un'altra non so quanti calci mercato ma credo che ormai Paolo abbia avuto l'opportunità essendo molto veloce e svelto di capire le dinamiche e la testa dei giocatori dei procuratori dei direttori sportivi perché quando lui faceva domande carpiva e capiva prima di tutti gli altri quelle che erano le volontà del calciatore le volontà del procuratore le volontà di una società eccetera eccetera io credo che abbia azzeccato a pieno quella che è la situazione di Skriniar perché Skriniar ha comunque la possibilità di andare in una società o un'altra che non deve essere per forza il pari di San Germain potrebbe venire fuori anche un'altra società di quelle che possono pagare quel tipo di stipendi ma scusate ma se il pari di San Germain sborsando 60 milioni si era messo d'accordo per 9 milioni secondo voi rimangono 9 milioni? secondo voi quei 60 milioni che il pari di San Germain va a risparmiare non verranno comunque in parte non ti dico completamente ma suddivisi in una congrua commissione al procuratore e sicuramente in un ingaggio ancora più alto al giocatore che arriverebbe a parametro zero non più con un sborso di denaro quindi l'Inter secondo me più che al denaro è costretta ad attaccarsi a una scelta di vita del calciatore scegli di vivere a Milano di finire la carriera a Milano e quindi come scelta di vita intendi stare a Milano oppure guadagni magari anche il doppio perché può essere che il pari di San Germain capisce la titubanza del giocatore alza la posta e alza la posta sulla commissione al procuratore cose che Paolo Bargigia ha vissuto quanto ho vissuto io perché io credo che quando vivevamo i mercati Paolo io lo vivevo in una barricata tu in un'altra però poi ti ricordi ci incontravamo ci scontravamo perché tu ogni tanto uscivi anche con delle notizie che ci facevano incazzare oh ben ormai cerchiamo di dare è il complimento è il complimento migliore è il complimento migliore che mi potesse fare perché vuol dire che se gli addetti ai lavori si incazzavano vuol dire che avevo colpito nel segno è certo insomma questa cosa depone almeno a favore del mio impegno di non aver mai fatto sconti a nessuno ma onestamente dal 96 da quando poi c'è stata la sentenza Bosman queste situazioni qua di Skriniar sono diventate praticamente il pane quotidiano è un conto è l'affetto del tifoso che non vuole mai arrendersi che ha ancora un'idea romantica ma queste cose non esistono ormai non è più così purtroppo diciamolo purtroppo non è più così è solo business noi ci fermiamo torniamo tra pochissimi ci potrebbe essere un'altra assenza importante tra Inter e Roma e sto parlando di Dybala vero Paolo? esatto perlomeno assenza dal primo minuto perché Dybala sicuramente sarà convocato oggi è tornato in Italia dopo la trasferta argentina nella quale Scaloni ha avuto il buon senso di non farlo giocare dopo l'affaticamento al flessore accusato prima di Roma-Atalanta che ha costretto il giocatore a non giocare appunto la partita persa con la squadra di Gasperini oggi si è allenato a parte Dybala domani se dovesse lavorare con il gruppo allora magari una sua titolarità potrebbe essere presa in considerazione noi vi facciamo vedere la formazione della Roma crediamo che la squadra di Murigno possa partire così quindi con un atteggiamento più ermetico con Cristante e Matici in mezzo al campo Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Ebram qualora dovesse giocare Dybala andrebbe a far compagnia a Zaniolo sulla tre quarti e Pellegrini scalerebbe al centro campo di fianco a Cristante con Matici in panchina diciamo che in questo momento 60% Dybala a panchina 40% Dybala a campo ma stranissimo oggi è giovedì domani vigilia ma stranissimo che Dybala non parta era rinato con Murigno era la sua stagione ma i problemi fisici Dybala è sempre avuto la discontinuità di Dybala negli ultimi anni negli ultimi due anni era sempre così ma quando lo dicevamo noi era una cosa oggettiva cioè Dybala fa tre partite e si ferma per altre tre di Dybala ha la soglia del dolore che è bassissima lui al minimo si ferma e maggiormente quest'anno ha bisogno di riposarsi si riprende e ritorna se un giocatore sente pizzicare non gioca è chiaro che per esempio anche nel calcio di Murigno che è poco collettivo e molto legato al singolo un po' come il calcio di Allegri con le debite proporzioni un'assenza come Dybala peso che ha la giocata individuale pesa e infatti nell'ultima partita ci è visto verso con l'Atalanta ecco perché è un tipo di calcio che fa molto leva sulle giocate individuali secondo me è quindi un po' più povero ma non diciamo niente di nuovo insomma sono completamente d'accordo sulla discontinuità di Dybala ragazzi è anche uno dei motivi per cui Dybala alla fine in estate non è che abbia avuto tutto sto grande mercato parliamoci chiaro si parlava di squadre stranieri non l'ha avuto alla fine è andato alla Roma a condizioni anche economicamente non proprio favorevoli per il giocatore perché c'è la clausolina che commenti è vero è vero però se un giocatore è forte arriva il Paris Saint Germain arriva il City arriva il Chelsea capito cosa ho soprattutto a paramento zero questo sicuramente a meno della metà 4 più bonus da quello che ho capito la Juventus ne aveva chiesti 8 o no? inizialmente si parlava di 10 si però poi alla fine c'erano erano arrivati a 8 e poi c'erano le famose commissioni al procuratore perché non è il procuratore ma è un anche lì esatto lui ha dichiarato una cosa che tra detti i lavori un po' si sapeva e credo che non sia smentibile cioè a un certo punto il suo il suo agente e la Juve avevano un accordo sulla parola per il rinnovo dalla stagione precedente e che poi sono state fatte altre valutazioni sui costi e anche tecnici soprattutto poi a gennaio quando hanno deciso di investire pesante su Vlaovic e Allegri aveva in testa un altro tipo di calcio cioè di giocare 4-3-3 e quindi praticamente Di Bale è stato scaricato tatticamente e anche dal punto di vista di quell'impegno sulla parola che avevano a 8 milioni lui fra le pieghe in qualche intervista l'ha detto recentemente è andato un po' strana quella cosa lì però a un certo punto hanno deciso di scaricarlo aggiungi qualche atteggiamento tipo lo sguardo torbo verso la tribuna poi si dice questa cosa la Juve è stato mai smentito che uno dei motivi di rottura definitiva fu il fatto che la Juve venne a sapere che il procuratore di Di Bala chiamò Marotta ma lì la Juve aveva già deciso di non prenderlo cioè quando guarda che è stato Allegri quando hanno deciso di prendere Bravic che aveva in testa il 433 cioè Di Bala non era più funzionale io non so se Antonio Massimo in questo hanno dei riscontri e mi possono venire in soccorso perché io la so così assolutamente assolutamente vero quello che hai detto l'accordo era una stretta di mano quindi che conta quanto una stretta di mano se vuoi far saltare l'accordo ma fondamentalmente c'era anche già un approccio da parte del giocatore del suo procuratore che poi non sono così ingenui ognuno tira acqua al proprio mulino e quindi un approccio con l'Inter o una mezza promessa di Marotta c'era anche perché si conclude con il Beto invece che arriva da parte di Mzaghi non da Marotta e non dall'Inter detto molto chiaramente questo è un po' anche il mercato io dico che ci sta ribadisco che mi sembra tollerante quello che che dica o non dica Di Bala che merita di vivere la sua stagione al meglio io so da quanto so da quanto mi dicono i vicini agli argentini che lui è andato non solo per la visita fiscale perché partendo con un infortunio doveva per forza andare ha seguito la squadra ci tiene a stare nel gruppo e questo dovrebbe insegnare tante cose ai nostri chiaro un conto è giocare la Nation League un conto è giocare la Coppa del Mondo tra qualche mese e avrebbe anche giocato qualche minuto il buon senso in certi casi ti fa capire puoi tornare indietro è probabilmente il buon senso dell'allenatore di concedere la prima partita dopo il post trasferta negli Stati Uniti se ricordo bene dove è andata la Nazionale Argentina e di utilizzare la partita in corso io penso che in questo momento attorno a Di Bala ci siano tante voci sugli infortuni su quelle che sono state le sue passate stagioni ma che sia un giocatore che potrebbe addirittura giocare il titolare domenica sabato grazie a tutti